Mi chiamo Sabrina Sacconi, sono professore di neurologia all'Università di Nizza in Francia e sono il capo del servizio Sistema Nervoso Periferico, Muscolo e Malattie del Neurone Motore. Quindi noi siamo un centro di referenza per queste patologie in Francia e anche riconosciuti a livello europeo. Mi occupo quindi di muscolo più sul versante patologico. Il mio principale interesse è studiare l'effetto dell'invecchiamento nelle malattie neuromuscolari, in particolare nelle miopatie. La malattia in cui io sono considerata come esperta è una distrofia che si chiama distrofia faccio scaplomerale, di cui parlerò oggi in questo congresso, che ha la caratteristica di essere una malattia legata a un accorciamento dei telomeri, come avviene nell'invecchiamento. Quindi questa malattia è particolarmente aggravata dall'invecchiamento. Su questa malattia abbiamo studiato l'effetto dell'invecchiamento sulla severità e sull'apparizione di un certo numero di sintomi, come per esempio la difficoltà a deglutire, la disfaggia e la sordità, che sono degli interessamenti, sono dei possibili interessamenti che ci sono in alcuni di questi pazienti e non in tutti. Li troviamo nei pazienti più gravi, in epoca precoce, quindi nei soggetti più giovani e poi li troviamo anche nei soggetti più anziani, quindi non sappiamo bene se è l'effetto dell'età che li accentua oppure se fa parte del normale processo di invecchiamento. Per questo abbiamo bisogno di dati più importanti che vengono da questo registro nazionale. Ci siamo accorti anche che in questa malattia c'è una grande variabilità dell'espressione clinica in funzione, per esempio, del peso degli individui. Gli individui che sono sottopeso o sono troppo sovrappeso presentano dei tassi di severità della malattia che sono più importanti, quindi c'è un effetto sicuramente della dieta e poi c'è un effetto dell'esercizio fisico che in particolare abbiamo visto che c'è un interessamento asimmetrico in questa malattia, abbiamo visto che il lato dominante è di solito quello meno affetto e quindi pensiamo che l'esercizio fisico sia particolarmente interessante in questi pazienti. E anche lì non sappiamo se è legato al fatto di prevenire una sorta di invecchiamento precoce oppure di curare degli aspetti specifici della malattia. In ambito di altre malattie, un'altra malattia di cui ci stiamo interessando è la miosità inclusioni, che è una malattia anche quella del soggetto in età avanzata perché inizia di solito dopo i 50 anni ed è caratterizzata dal fatto che anche in questa malattia l'esercizio fisico è qualcosa che serve veramente a prevenire l'evoluzione della malattia. È una malattia in cui c'è un'accumulazione di proteine e un'infiammazione che si ritrova anche nei processi, il tipo di proteine che sono accumulate in questa miosità inclusione, che è caratterizzata anche lei da un interessamento, da una disfagia e da un interessamento muscolare che comincia di solito a livello della parte prossimale degli arti inferiori e della parte distale degli arti superiori. si migliora tantissimo con l'esercizio e un apporto proteico che è adattato. La ragione per cui mi hanno invitato a questo colloquio, che trovo molto interessante, perché da una parte esplora degli aspetti più fondamentali del muscolo e dall'altra permette di discutere con delle persone che sono implicate più su questi aspetti fondamentali, permette ai clinici, come sono io, di discutere con questi ricercatori di diversi aspetti delle malattie e di abbordare il problema non soltanto dal punto di vista del muscolo, ma anche dal punto di vista del nervo o dell'aggiunzione neuromuscolare, come abbiamo visto stamattina. Grazie.